Siamo qui con il professore Enrico Alleva per l'edizione 2016 del Festival Filosofia. Il professore terrà una lezione magistrale a Carpi sul tema altruismo animale. Gli animali, noi compresi, sono altruisti? Certamente alcune specie animali sono molto altruiste. Sono un esempio di altruismo assoluto. Pensiamo a un alveare, dove le fedelissime ancelle di un'unica regina o di poche regine passano la vita a nutrire le larve, che sono tutte sorelle fra loro. Dove i maschi fuchi fecondano e muoiono. Dove la singola ape, di cui parlerò a lungo e del suo pungiglione, si suicida pur di difendere l'insieme della società di api. Ma da questo a portare un esempio eccessivamente militarizzato e che è piaciuto a molti generali del passato, di una società umana organizzata come un alveare ci passa. Ricordiamo tristemente che nel fine degli anni 70 ci fu un tentativo di leggere la società umana a partire dai formicai. Questo non è il caso. Spesso pensiamo alla teoria evoluzionistica come a una lotta per la vita, a una massimizzazione egoistica delle risorse dell'individuo a scapito degli altri. In questo senso l'altruismo è un po' un paradosso dal punto di vista evoluzionistico? Quando chi mi ascolta passeggia per strada e vede i colombi di città si rende da solo conto che il fatto che tanti animali mangino insieme fa in modo che se qualcuno si avvicina qualcuno se ne accorge e il beneficio, se si avvicina un gatto, è per tutto il gruppo. Siamo pieni di effetti di cooperazione all'interno dei quali essere insieme aiuta, aiuta a scorgere i predatori, aiuta a scoprire un cibo, magari un cibo nuovo. Anche animali molto solitari come gli avvoltoi che noi vediamo solitari nel cielo in realtà si tengono tutti quanti d'occhio perché se scompare un avvoltoio perché c'è una carogna gli altri se ne accorgono e questa rete fa sì che dove non c'è l'avvoltoio sulla sinistra l'avvoltoio va lì e trova anche lui la carogna l'avvoltoio è ancora più sulla sinistra e quindi un animale così solitario nel giro di poche ore se non decine di minuti diventa un grande gruppo che spartisce questa risorsa magari dell'elefante morto o ai nostri climi di un bue o di un pecora e quindi anche tutti i casi in cui gli animali li vediamo da soli anche nei casi degli animali predatori come i falchi c'è un momento di solidarietà tutti insieme poi gli animali, gli uccelli addirittura si tramutano da esseri fortemente territoriali che scacciano dal proprio territorio dal proprio vicino, dal proprio vinto gli altri uccelli in grandi gruppi che fanno migrazione tutti insieme perché quando si fanno lunghi e perigliosi viaggi essere in gruppo è un grandissimo vantaggio dunque solitudine qualche volta agonismo a tratti, cooperazione molto spesso grazie al professore Alleva per l'edizione 2016 del Festival Filosofia